Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, signori, ieri sera c'è stato il primo grande panel di Marvel Studios, in attesa di quello dedicato ai film e alle serie TV di stasera. Quello di ieri si è concentrato invece sull'animazione, hanno mostrato un sacco di cose interessanti, hanno parlato di un sacco di roba e quindi sono qui per farvi un bel recappone di tutto quello di cui hanno parlato. La conferenza si è aperta facendoci vedere un primo trailer di I Am Groot, di cui ho già fatto la reaction che trovate caricata sul canale. Saranno appunto questi corti dedicati a Baby Groot, che debutteranno tutti insieme su Disney Plus a partire dal 10 agosto, e durante il panel hanno confermato di essere già al lavoro su una seconda stagione. Poi si sono concentrati molto su Spider-Man Freshman Here, la serie che parlerà del primo anno al liceo di Peter Parker e che avrà un design che si ispirerà tantissimo al tratto di Steve Dicto. La serie è prevista per il 2024, ma in occasione del panel hanno già confermato che sarà rinnovata una seconda stagione che si intitolerà Spider-Man Sophomore Here, che è un riferimento appunto al secondo anno di liceo. Hanno mostrato quindi diversi screenshot e design dei personaggi, tra cui ovviamente Peter Parker, il suo homemade suite, che devo dire mi piace molto, hanno fatto vedere Doctor Strange, Daredevil, che tra l'altro avrà un costume molto simile a quello della rana fumetti Shadowland, che sarà doppiato da Charlie Cox. Poi ci hanno fatto vedere il suo gruppo di amici, tra cui troviamo anche Nico Minoru, la strega dei Runaway, e Amadeus Cho, l'ulk dei Champions. Lui tra l'altro è divertentissimo, quindi non vedo l'ora di vederlo all'opera e sono curioso di vedere se lo faranno trasformare in Hulk. E poi abbiamo visto il roster dei Tutti Villene, ragazzi, c'è veramente chiunque. Abbiamo Doc Ock, Camaleonte, Scorpione, Speed Demon, Rhino, Tarantula e molti altri, tra cui anche Bentley Whitman, che nei fumetti è in realtà Wizard. Inoltre è stato confermato che all'interno della serie saranno presenti Harry Osborn e Norman Osborn, che tra l'altro avrà una figura di mentore, un po' come era stato nei film Tony Stark per Peter Parker, e infatti hanno mostrato questo screenshot che è praticamente identico alla scena che abbiamo visto in Spider-Man Homecoming. Inoltre, oltre ai tantissimi screenshot della serie che hanno mostrato, che mi piacciono veramente un sacco a questo designer, ragazzi, è veramente una bomba, ci hanno fatto vedere anche alcuni dei costumi alternativi che Peter indosserà all'interno della serie animata, che sono tutti tratti da costumi che Peter Parker indossa nei fumetti. In ordine, partendo alla sinistra, abbiamo infatti quello di Hornet, The Dusk, il classico, quello di Fondazione Futuro ed infine Prodigy. La serie inizialmente era stata annunciata come canonica, infatti nel primo annuncio, quando era stata mostrata al Disney Plus Day, era stata presentata come una serie che avrebbe parlato degli anni di liceo di Peter prima del suo debutto ufficiale in Captain America Civil War, ma in base a quello che abbiamo visto ieri sera, dubito fortemente che questa roba sia canonica all'interno del Marvel Cinematic Universe, anche perché Peter incontra Doctor Strange solamente in Infinity War, qua ci hanno fatto vedere già uno screenshot dove sono insieme, qua sembra che incontrerà Daredevil, c'è un sacco di cattivi che non abbiamo mai visto nel Marvel Cinematic Universe e quindi secondo me molto semplicemente sarà all'interno dell'MCU ma parterà un altro universo, con i multiversi aperti secondo me si giocheranno tantissimo questa carta. Passiamo quindi a Marvel Zombie e la cosa più interessante che hanno annunciato subito in fase di presentazione è che questa serie avrà un rating TVMA, ovvero vietato ai minori di 17 anni se non accompagnati, il che mi fa ben sperare che a differenza della puntata che abbiamo visto su Votif potremo vedere molto più squarciamenti, sangue e gente mangiata viva. Questa volta tra la fila degli zombie vedremo Icaris degli Eterni, ovviamente la nostra caravanda, Ghost, Occhio di Falco, Abominio, Capitan Marvel e Capitan America che è tagliato a metà, quindi credo che sarà ambientata nello stesso universo della puntata che abbiamo visto in Votif perché se vi ricordate infatti il Capitan America Zombie veniva segato in due da Bucky che gli lanciava addosso lo scudo durante la scena all'interno della metropolitana. Tra gli eroi invece a difendere la terra troviamo Yelena, Kate Bishop, Jimmy Woo vestito come Kenshiro e ragazzi che gli vogliamo dire, cioè guardate quanto è bello, poi abbiamo Shang-Chi, Miss Marvel, Death Dealer, Red Guardian e Cathy, l'amica di Shang-Chi. Inoltre hanno mostrato anche due squadre aggiuntive, questa qui interamente formata da Skrull e quest'altra tutta femminile dove mi sembra di vedere Sharon Carter, Valkyria e Monica Rambeau. Per quanto riguarda la data di uscita Marvel Zombie è stata fissata per il 2024. Passiamo adesso a una delle serie che più attendevo in assoluto per questo panel, ovvero X-Men 1997, la serie che riprenderà la storia della vecchissima serie animata degli anni 90 di cui hanno mostrato diverse cose, tra cui il team principale dell'X-Men dove troviamo Rogue, Gambit, Wolverine, Jubilee, Ciclope, Tempesta, Jean Grey e Bestia, poi hanno mostrato altri X-Men che compariranno all'interno della serie come Morph, Sunspot, Cable, Alfiere, Forge e Nightcrawler e infine hanno mostrato il gruppo di Villain che andrà a formare l'Hellfire Club tratto dai fumetti dove troviamo appunto Val Cooper, Sebastian Shaw, Sinistro, Emma Frost e Callisto. E infine in conclusione ci hanno fatto anche dare un primo sguardo alle Sentinelle che sono veramente fighissime, identiche appunto a quella della vecchissima animata, super inquietanti ed anche Magneto che appare con questo look fantastico, con questa M gigante sul petto, il capello lungo senza casco ed è stato rivelato che Magneto guiderà il gruppo dell'X-Men. Ora, non hanno dato un'ubicazione specifica per questo universo, però molti hanno ipotizzato che potrebbe essere addirittura l'universo 838 visto in Doctor Strange Multiverso della Follia, anche perché se Magneto sarà la guida dell'X-Men implica il fatto che Xavier non ci sarà e potrebbe non esserci perché è quello morto contro Wanda durante Doctor Strange Multiverso della Follia, però ovviamente Marvel non ha dato specifiche a riguardo, quindi si tratta solamente di teorie. Questa serie uscirà nell'autunno del 2023 e Marvel ha già confermato di essere al lavoro su una seconda stagione e io ragazzi non vedo veramente l'ora di vederla e sicuramente ne approfitterò per fare un mega re-watchone di tutto, dato che è disponibile su Disney+, anche perché l'avevo vista quando ero bambino un po' a pezzi e non mi ricordo assolutamente niente. Infine, ultima serie di cui hanno parlato ovviamente è stata What If? stagione 2, che tornerà all'inizio 2023 e di cui hanno già confermato anche qui una terza stagione. Durante il panel è stato mostrato il primo episodio della serie intitolato Cosa sarebbe successo se Capitan Carter si fosse scontrata con Hydra Stomper, ovvero Steve Rogers, non so se vi ricordate la puntata dove Steve rimaneva mingerlino ed entrava all'interno di questa sorta di mega armatura di Iron Man, ed è anche stato mostrato un piccolo teaser trailer dove sono stati visti diversi personaggi, ve li devo leggere perché sono veramente tantissimi, ovvero Ela, Capitan Carter, Scarlett Witch, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Peter Parker, Yondu, Korg, Thanos, il Gran Maestro, Red Guardian, Ego, Shang-Chi, Buggy, Capitan America e Gamora. Nello specifico quelli che erano in sala, perché purtroppo questo non è stato pubblicato online, hanno detto di aver visto Capitan Carter parlare con un vecchio Bucky Barnes ormai a capo dello SHIELD. Un piccolo scontro tra Odino e il mandarino, una storia su Ela, ed infine il tanto chiacchierato episodio della prima stagione, poi tagliato via all'ultimo inserito in questa seconda stagione, che è appunto quello dove vediamo Tony Stark su Sakara all'interno di questa sorta di Hulkbuster insieme a Valkyria e Korg, e poi vedevamo questa gara automobilistica, cosa già confermata ufficialmente dal set Lego che era già uscito in occasione della prima stagione di Botif, poi questo episodio è stato tagliato via per cause Covid, non lo si è ancora capito bene, comunque è confermato a questo punto che lo vedremo in questa seconda stagione. Infine diverse persone hanno dichiarato di aver visto all'interno del teaserino alcuni frame che hanno fatto intuire che ci sarà all'interno di questa seconda stagione un episodio tratto da Marvel 1602, che madonna quanto amo questa storia, è ambientata in un universo alternativo scritta dal buon Neil Gaiman ed è appunto ambientata nel 1600 e vede le versioni del 1600 di diversi eroi, tra cui Spider-Man, Daredevil, Fantastic C4 e così via, io mega hype per questa cosa, non vedo l'ora di vederla e sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Nessuna serie nuova annunciata, mi aspettavo magari qualche bomba con qualche titolo inaspettato alla fine che però non c'è stato, però hanno mostrato un sacco di roba, tantissima carne al fuoco, super curioso per Spider-Man Freshman Year, il design è veramente fantastico, ma sono anche incuriosito tantissimo da Marvel Zombie, al 90% da Jimmy Woo vestito da Kei Shiro con le carte in mano, veramente un design incredibile, non vedo l'ora di vedere cosa combinerà, X-Men 1997 hanno detto tutti che è stata un'avventata di nostalgia perché hanno mostrato una breve clip e anche lì non vedo l'ora di reimmergermi nei ricordi che avevo da bambino, quindi sinceramente sono stato estremamente contento di questo panel e spero di rimanere soddisfatto anche questa sera per quello dedicato ai film e alle serie tv. Quindi ragazzi questo era il recappone generale di tutto quello di cui ne ho parlato ieri, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commentino qui sotto, fatemi sapere cosa di quello di cui vi ho parlato vi ha colpito di più, quale serie vi interessa di più particolarmente tra Spider-Man, What If, Marvel Zombie e X-Men 1997 e anche M-Groot ovviamente, fatemi sapere con un commentino qui sotto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao!